Allora è partito tutto da quando mi sono accorto che il dito si stringeva, che la mano si chiudeva. Ho fatto l'impegnativa dal mio medico e mi ha detto il male che avevo. E allora sono andato a vedere al CUP se mi facevano questa visita e non andavo avanti. Poi sapendo che mia moglie era stata a Castellanza a fare il tunnel carpale, mi è venuto in mente che lì c'è la clinica della mano, abbiamo preso l'appuntamento e in pratica è stato fatto tutto lì. Dalla dottoressa Cavalli. Dalla dottoressa Cavalli. Poi ho preso l'appuntamento e tutto per fare questo intervento di due giorni. Allora il primo giorno ho fatto le iniezioni e le iniezioni non è che fanno un po' fastidio. Poi mi hanno fasciato tutta la mano e il giorno dopo c'è stata la trazione del dito con anestesia totale. Sedazione? Sì, la sedazione. Non ho sentito niente. In pratica la mano è diventata… si poteva già fare quasi tutto subito. Ha fatto un tutore? Poi ho fatto il tutore, il tutore lo metto di notte, di notte tutte le notti, adesso è un mese e lo devo tenere ancora quattro mesi. Faccio la prova così? Non mi impedisce niente per il lavoro che faccio, tante volte esagero anche. In pratica sembra che la cosa funzioni. Grazie.